60 lavoratori assunti dal 1995 in poi all'interno del progetto dei lavoratori socialmente utili sono stati stabilizzati dal comune di napoli operavano nella struttura dell'ente in diversi settori dalla protezione civile all'ambiente ed ora dopo un lungo percorso all'interno dell'amministrazione comunale il contratto a tempo determinato in scadenza il 31 dicembre 2013 è stato trasformato confermando gli impegni in tempo indeterminato a loro innanzitutto era dovuto perché erano tantissimi anni che lavoravano nell'amministrazione in modo identico a chi aveva un contratto a tempo indeterminato quindi un impegno oltre che istituzionale anche umano quindi sono molto contento per loro ovviamente ho chiesto a loro un impegno ancora più entusiasta per la nostra amministrazione poi noi proseguiamo su questa strada abbiamo un impegno insieme ai sindacati per procedere con altri colleghi loro LSU di due società partecipate Napoli Servizi e Napoli Park poi il 2014 sarà l'anno del concorso pure per i contratti a tempo indeterminato per le maestre e quant'altro insomma noi puntiamo sulle risorse interne sul pubblico e sulla forza di appartenere all'amministrazione della nostra amata città